ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua con un'altra puntata dedicata ai vostri video e alle vostre collezioni di orologi una simpatica rubrica che mette in evidenza il vostro modus operandi per il quale scegliete gli orologi più o meno perché a volte subite proprio le scelte diciamo così perché o ve li regalano o è questo regalo della moglie una mezza cioffecca e però bisogna fare buon viso a cattivo gioco oppure questo l'ho preso quando ancora non ci capivo niente come se adesso ci capisse qualcosa insomma sono tutte situazioni particolari che per noi ci divertiamo ad andare a sfrucugliare a vedere un po qual è il percorso chi è senza peccato scagli la prima pietra come disse paolino paperino se non mi sbaglio no quindi ce li guardiamo volentieri come partecipare lo sapete guardate qua sotto noi in sovraimpressione passano le informazioni tecniche su come inviare i link e i video e niente mando le ciance direi di guardare l'orologio del giorno che ancora una volta ragazzi da quando ho messo questo cinturino qua lo indosso con piacere perché fa il suo è l'omega speed master il moon watch 42 mm di diametro cassa quadrante nero opaco così come opaco il cinturino in coccodrillo del nilo coccodrillo del nilo cosa sia io non lo so però coccodrillo del nilo fa fa scena nabuc nel senso che è scamosciato però scamosciato sarebbe la parte interna della pelle no quella meno pregiata nabuc è questa lavorazione però fatta sul fiore della pelle sull'esterno quindi di classe opaco cinturino opaco quadrante fanno bandana insieme e che dire e niente fanno bandana primo video dito infuocato ciao davide ciao mario darezzo mario è un idolo mi piacciono un sacco i tuoi video cosa sono qui per presentarti la mia piccola e umilissima parto dal primo orologio che è un seiko skx 007 bella assai un diver bellissimo è stato il primo orologio che ho comprato e che quindi mi ha fatto entrare nel game e non è mica da tutti il primo orologio che ho comprato un seiko skx cioè vabbè magari una volta era un po meno forse era più facile orientarsi su orologi di un certo valore diciamo no anche se un secco è un secco economico però non sei caduto nella della trappola degli orologi cinesi oppure negli orologi a batteria che quelli sono in fingardi no che non ci sei caduto bravo 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 è un diver niente da dire elegantissimo adatto a un sacco di situazioni legatissimo legatissimo adatto a tutto a tutto il secondo roggio che ti faccio vedere è questo omega si master questo orologio me l'ha regalato mio padre qualche anno fa l'aveva vinto negli anni 70 al gioco e mi piace un sacco per questi giochi di luce questi riflessi del quadrante un orologio anche qua classico elegante spettacolare a mio avviso se ora bellissimo c'è anche il topino tieni però andare a raccontare i i cacchi di tuo padre no che l'aveva vinto al gioco un orologio proprio immagino già la scena deprimente della bisca delle carte che girano le sigarette l'alcol fumo il buio e questa gente disperata che gioca l'orologio e poi lo perde hai capito cioè magari evitare queste vabbè il prossimo orologio è un seiko 5 made in japan made in japan questo con lingue in inglese e arabo e automatico fondello aperto gli ho cambiato il cinturino come vedi in pelle per me anche questo non l'ho già dato a qualsiasi tipo di situazione mi piace tantissimo e poca spesa e soprattutto tanta resa sego five il prossimo orologio che ti mostro è un orologio che ho scoperto tramite una mia amica russa che mi vedi indica sul quadrante i minuti dei silenzi radio che si facevano in inizio novecento e è un altro orologio automatico fondello aperto fondello aperto addirittura la la guarnizione un orologio niente dire niente da dire molto stravagante secondo me e fa sempre colpo amici russofili cioè amanti estimatori dell'orologeria russa che so che ce ne sono una marea proprio su quel filone lì no come ci sono sui secco anche sull'orologeria russa un vostro con il fondello trasparente io non lo avevo mai visto anche perché non so questo qua c'è c'è un sistema di chiusura con il fondello a pressione con la con l'anello che si avvita e preme questo questo fondello contro la guarnizione quindi qua si va va a scomparire quel sistema lì non vorrei che fosse una modifica aftermarket nel senso che siccome vendono ghiere pezzi per modificare no e magari questo qua è un fondello comprato aftermarket vendono i fondelli per trasparenti per il vostro che uno ce l'ha preso ce l'ha messo perché altrimenti io non mi ricordo e posso anche errare perché errare humanum ovest però il prossimo orologio ti farà veramente arrabbiare perché eccolo qui il tuo amatissimo moon's watch perché modello jupiter devo dire che mi piace un sacco l'abbinamento di questo beige con le lancette arancioni questo bracciale nero pensa un po che è appena uscito in questi giorni ieri vieni l'altro e l'omega speed master il moon watch bianco 9100 euro è appena uscito e te lo hai anticipato con questo omega qua guarda un po come si è stato lungimirante ad acquistare questo plasticone qua a batteria un giocattolo però ha anticipato i tempi bravo devo dire un orologio da tutti i giorni devo dire io l'ho apprezzato tantissimo niente da dire più che altro si legge bene niente di particolare il prossimo orologio invece è un orologio che ho acquistato a un mercatino si tratta di uno swatch anni 90 e questo particolare si chiama the first scene come vedi bracciali in finto serpente ore indicate dalle mele in mezzo abbiamo come le lancette eva a poppe di fuori secondo me orologio particolarissimo che parla da solo devo dire sempre un orologio classico un vecchio swatch ma secondo me che racconta una storia ti saluto tantissimo grazie mille davide ma cosa ridi vabbè ciao un caro saluto niente dai bello ora io prendo in giro lo swatch ma ha il suo senso come ho sempre detto no collezionistico qua con le mele la sirena nuda con le poppe di fuori come dici te detta così sembra quasi un una caricatura no un orologio caricatura in realtà ogni swatch ogni singolo swatch ha il suo perché ogni singolo modello di swatch ha il suo perché perché va a completare tutta una serie di con una collezione tematica che poi prevede anche queste queste caricature qua questi orologi fatti così comunque belli orologi il vostro che lì mi ha lasciato qualche dubbio ma non perché non sia autentico è però perché ci sia qualche modifica oppure così ditemelo voi insomma poi alla fine più bello e risulta essere a parte l'omega che ha vinto il babbo al casino lì che però è un vintage un vintegione di quelli vintegioni proprio ls kx che con una bella revisione l'impermeabilità la tiene ancora lo puoi veramente usare come orologio da mare da tutti i giorni bravo bravo poi si sente che sei giovane quindi hai ancora tutta la ma poi perché ridevi non si sa c'è un po la risarella ti va bene comunque sei promosso è promosso su tutti i fronti prossimo video ciao davide ciao di tutto volevo ringraziarti per i tuoi video grazie per la tua competenza ma soprattutto per la tua simpatia devo farsi vedere alcuni miei orologi che ho diviso in gruppi omogenei per fare video abbastanza brevi bravo e partirei dai vintage in particolare da questo certina del 1970 a questa cassa di forma chiaramente di ispirazione space age così come richiamato anche dal nome del modello argonaut 220 è una cassa di 33 x 38 mm priva di lunetta caratterizzata da questa satinatura nella parte superiore e invece completamente lucida su entrambi i fianchi della carour bravo carour ha un movimento certina a carica manuale vedo già che mi sia simpatico perché ottima esposizione orologino già interessante bello 33 x 38 uno pensa che sia piccolo ma secondo me al polso sta bene perché quando gli orologi quadratini lì così stanno occupano più spazio no sul polso devo dire che io ho salvato nei preferiti un una galleria un sito web che vede tutti gli orologi certina vintage una galleria di orologi con le caratteristiche ora se mi ricordo lo metto in sovra pressione dove si può attingere a idee sui certina credo di fare cosa gradita se mi ricordo di metterlo qua se non mi ricordo scrivetemelo nei commenti che ve lo metto bello bello certina poi vintage ecco passerei ora a dare un'occhiata a questo bulova del 1964 era l'orologio che usava mio papà tutti i giorni quando io ero piccolo e l'ho ritrovato una decina d'anni fa in un cassetto rotto ho fatto veramente fatica a trovare un orologio che me lo aggiustasse finché finalmente sono riuscito a risentire il tipico rumore del diapason ed è stato un momento veramente emozionante è un orologio in acciaio con una casa da 35,5 mm caratterizzata dall'assenza della corona sul sul fianco perché la corona è stata spostata sul fondello per aumentare l'impressione di non doverlo mai regolare l'impressione psicologica così come aumentare un po questo effetto disco volante perché siamo in fondo sempre all'inizio del periodo space age qui siamo nel 1961 Vacheron Constantin cassa in oro da 32 mm particolarmente sottile sotto i 9 mm di spessore è un orologio che è caratterizzato da questa lunetta godronata era l'orologio elegante da sera di mio papà che gusto e anch'io trovo che nonostante la sfera dei secondi sia un orologio molto elegante è la prima cosa che ho pensato io quando l'ho visto strano un Vacheron Constantin no un dress watch con la con la sfera dei secondi perché si tendeva in quel giustamente a farli senza sfera dei secondi per essere l'orologio elegante perfetto no invece l'apprezzo perché fatico ad avere orologi senza la sfera dei secondi ragazzi sono anche al giorno d'oggi orologi contemporanei soprattutto cronografi che non hanno la sfera dei secondi e io lì proprio non ce la faccio bello d'oro e l'orologio del bacio aveva a gusto il babbo aveva a gusto la prima cosa che mi viene a dire aveva a gusto un Vacheron Constantin cioè ora uno poteva non cadere nella solita rete dei soliti nomi noti Vacheron Constantin d'oro bello bravo complimenti qui siamo nel 1952 l'orologio di mio nonno questo orologio a differenza di quello precedente ha delle dimensioni molto più generose la cassa è di 36 mm ma anche lo spessore è molto maggiore più questo quadrante paipan e le ansie a ragno fanno sì che sostanzialmente questo sì è un orologio elegante ma molto meno elegante di quello precedente però è che se quello di prima era un orologio da sera questo un orologio elegante da giorno lo si notava anche dalla sfera secondi nera proprio a contrasto veramente ora dico un pugno in un occhio no veramente facilmente percepibile subito al volo quindi un po più sportiveggiante quello sì bello però però voglio dire no i geniti di solito l'orologio del genitore o del nono erano no lasciato un lanco uno zenith no queste robe qua qua siamo arrivati Vacheron Constantin e Pate Philippe mi sembra che la dinastia lì sta bene darei ora un'occhiata a questo vecchio orologio del 1954 probabilmente chiunque lo trovasse in un cassetto lo butterebbe io invece me lo sono comprato perché se è vero che ha perso completamente la cromatura sulla cassa ha un quadrante completamente ingiallito e pieno di puntini trovo che sia invecchiato molto bene con stile insomma che sia l'espressione dell'orologio vintage fra l'altro è giusto ricordare che questi orologi qua questo è un po be da prima serie di fatto sono degli orologi lip se no si farebbe fatica a capire la cura con cui sono fatti soprattutto cerci accenni all'orologeria tradizionale come appunto le sfere azzurrate ma soprattutto il movimento che è particolarmente curato con cote de geneva anglage e altri particolari come puoi vedere che fondello cosa che stupisce se non sapessi appunto che di fatto sono dei lip come un orologio russo economico di subito dopo la guerra sia così curato nei particolari ora no è veramente interessante quello che ci sta raccontando perché nemmeno io sono a conoscenza di queste particolarità è fatto anche bene hai visto sei stato lungivirante hai visto lungo e hai comprato questo poveda che in effetti pare un orologio di qualità superiore soliti russi da bancarella lo si vede anche dall'interno del fondello che aveva tutte quelle lavorazioni per l'age molto interessante e poi è interessante anche vedere come è invecchiato che dice ha perso ha perso la placatura ecco quindi facciamo vedere agli amici neofiti e ragazzi che magari stanno guardando in questo momento cosa c'è sotto la placatura degli orologi vintage una cassa in ottone lo vedete che colore un colore dorato perché le casse in ottone per risparmiare fai la cassa in ottone fai la placatura lucida e poi lo vendi e diventa economico a differenza a quel tempo esistono già gli orologi in acciaio piena pieno di pregio maggiore ok poi anche il quadrante così con le lentiggini è fiorito uniformemente ma bell'orologio complimenti ecco ultimo ti farei vedere questo zenith del 1934 37 carta in oro da 33 mm che ha questo quadrante particolare a sandwich dovresti ecco si vede bene così che lo rende molto sportivo soprattutto per l'epoca questo orologio inoltre nasconde un segreto nella cassa infatti guardando il fondello tu trovi tutti i punzoni d'epoca sia il punzione della zenith d'epoca che il punzione del cassaio di le loc ma manca il punzione swiss o swiss made infatti guardando il movimento che è marcato zenith vedi che il numero di produzione è 7 milioni eccetera ciò dovrebbe indicare qui chiedo aiuto a quelli che si intendono di più di medio orologi che è prodotto nello stabilimento di besançon in francia stabilimento che è stato fondato dalla zenith nel 1929 per la crisi del 29 e che ha continuato a produrre per tantissimi anni questo fa sì che pur essendo un orologio zenith un movimento zenith casa zenith non può essere marchiato swiss made boh per oggi ho finito spero di non essere stato troppo noioso ti ringrazio ancora per i tuoi meravigliosi video saluto a tutti quanti e auguro tanti unboxing unboxing grande i miei video sono meravigliosi come dici ti perché ci sono le persone come te come il tuo video che è meraviglioso quindi se è meraviglioso il tuo video diventa meraviglioso anche il mio sono buoni tutti a fare così complimenti perché c'hai a me mi ha insegnato già un sacco di cose solamente con questi sei minuti di video il discorso qua dello zenith finale di besançon è molto interessante quindi dura dopo la crisi del 29 che sarà la crisi economica più grande del secolo scorso e anche a tutt'oggi zenith ha aperto una una fabbrica a besançon per fare gli orologi evidentemente costava di meno francia svizzera tra l'altro besançon è proprio di là dal confine della svizzera dove ha sede oggi iema e c'è anche lì un distretto orologero di un certo livello sono anni che a besançon come avete come vedete la cultura orologiera perché appena di là dal confine come fosse dire in italia lugano chiasso in italia e quindi tutta l'influenza dell'orologeria svizzera è stata anche riportata lì in quella zona lì via complimenti per tutti gli orologi per quest'ultimo qua interessantissimo zenith con il suo calibrino senza scritta swiss made anzi se sapete qualcosa e come dicevo c'è gente che fissata 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 un brutto termine c'è gente che si concentra sui seico c'è per nessuna persone che si concentrano sugli orologi russi io per esempio mi cerco di concentrarmi nel p il mio piccolo sui lungi vintage ci sarà anche chi è esperto di zenith vintage no e quindi ci potrà dare magari un contributo qua sotto che fa tutto parte delle informazioni che poi ci mettiamo nel sacco nella taretra tretra prossimo video ciao davide ciao armando da catania armando di famiglia sono qui con mio papà emanuele e mio fratello carlo emanuele carlo bravi tutti bravi una sterminata di swatch come ho appena detto nel video di prima che rappresentano insomma il collezionismo per antonomasia di orologi e poi raggiù vedo amara l'amaro amara che c'ho anch'io da qualche parte eccolo qua tantan 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 che buono e non è pubblicità però è buono e raggiù ce l'ha perché siciliano è amico siciliano la collezione non è unipersonale come dicevo una collezione di famiglia anche se la maggior parte degli orologi poi in realtà gli ha comprati il babbo iniziamo con questa carrellata di swatch in onore della casa che alla fine ha salvato la rologgeria negli anni 80 come puoi vedere sono un sacco di modelli differenti comprati negli anni 80 anni 90 mai indossati molti di questi non sono mai stati indossati collezionismo adesso invece sgombriamo la tavola e passiamo direttamente agli automatici ciao davide rieccoci abbiamo sgombrato il tavolo per passare agli altri orologi automatici allora io inizierei con questo orologio la scrivania diciamo stato smontato da un aeroplano praticamente poi stato montato su questo supporto spettacolo movimento le mania come si legge anche sul quadrante e va ed è su dial da 24 ore spettacolissimo adesso passiamo a un ricordo del bisnonno anche se non l'ho mai potuto conoscere è uno zenith da taschino ferrovie dello stato prima di dare i perseo probabilmente davano questi zenith quadra da taschino e dentro c'è scritto anche grand prix pari 1900 si mette a fuoco si è molto bello molto bello molto bello molto bello adesso facciamo una carrellata veloce di orologi russi anche però fanno fanno numero fanno quantità fanno quantità questo non è un buon motivo perché oddio siamo tutti spinti dal fatto della quantità fanno fanno numero fanno quantità quando lo sento dire mi cadono un po le braccia per non dire le palle però il discorso è l'ho detto prima il collezionismo va dagli swatch agli seico 5 agli orologi russi eccolo qua un amico che colleziona orologi russi però per la quantità a me non è che mi sconfiffra tanto come motivazione interiore proprio no come a per la quantità un numero di orologi più ce pure un racchietta un altro racchietta dove ho voluto questo rostock vostro tra di tutti da papà soprattutto gli anni 80 90 ma su questi non mi soffermo molto perché non c'è tanto da dire sì però quindi faremo una carrellata vecchietta che senso avere un pezzo invece bello è 69 già visto il canale ma sempre carino prova accutron mi correggono dalla regia del 66 66 dietro c'è scritto m non riesce a mettere a fuoco ok m6 e vuol dire che del 1966 ancora perfettamente funzionante come vedi la lancetta va che è una meraviglia certo space view poi passiamo a due giapponesi che ho comprato io da skx anche tema ma mi sembra che oggi si ripetono gli orologi bluovacutron l'ho visto prima l'SKX l'ho visto prima ma siamo un pochino con poca fantasia oggi ragazzi dicevi questo ce l'hai anche tu no questo non ce l'ho più io perché l'ho venduto a un amico che abita qua a un chilometro che mi ha insistito ha insistito ha insistito che a 400 euro glielo ho venduto avevo pagato 350 a me mi sono tolto la soddisfazione del 50 euro e mi comprerò un altro giapponese però un citizen è per l'estate ora guardiamo ci siamo quasi entro un paio di mesi un citizen me lo piglio da battaglia anche se con la lunetta differente e l'ho comprato proprio dopo aver visto il tuo video perché mi andava di avere un bel diver per l'estate quindi ho preso questo bel SKX bravo e poi su internet ho beccato questo non l'avevo mai visto si è visto poco sul canale si chiama seiko business dovrebbe montare un movimento seiko matic comunque fa parte della stessa serie dei seiko matic però quelli uscivano con una dicitura seiko matic p questo si chiama seiko business a a serie 8306 9030 molto carino in 37 mm mi trovo molto bene quando lo indosso con la camicia simpatico adesso passiamo diciamo a quasi si può chiamare una sottocollezione di emilton khaki primo sa che automatico bianco no bianco non mi piace altro cagli questo però il meccanico più vecchio molto piccolo sotto collezione altro cagli automatico braccialato questo mi piace tantissimo certo purtroppo papà non me lo voleva regalare e quindi a quel punto ho comprato un altro cagli anche io meccanico 38 mm questo ha un'età 2804 e molto preciso funziona molto bene e infine quello che hai anche recensito tu cagli pilot aviation meccanico questo come puoi vedere porta i segni del tempo ma secondo me è bellissimo nonostante appunto questo quadrante un po rovinato monta questo nato ma è nuovo questo che usa mio fratello buh ma come fai se è rovinato passiamo adesso a un orologio che non si è credo non di averlo mai visto sul canale purtroppo questo ha qualche difetto va riparato perché senza il vetro ed è un tag o il pilot comprato da mio padre nell'ottanta tre a o io non è un automatico purtroppo è fermo e non cammina oltre a mancare il vetro non funziona bene il movimento quindi lo revisioneremo a breve appena possibile purtroppo non è facile in città non c'è nessuno probabilmente che lo sappia sistemare lo dobbiamo spedire alla casa madre ma si assicuri che è originale finiamo il video per stare anche nei tempi con il tridente degli orologi migliori che abbiamo quindi navitimer cosmonaut speedmaster professional e zenith è il primo rainbow flyback questi tre sono diciamo il tridente delle meraviglie tre cronografini sono tutti e tre dei grandissimi pezzi e quindi speriamo che tu non ci negli tre top consecutivi uno dopo l'altro e questi sono questi due sono quelli che il nostro padre ci ha regalato per la laurea questo a me questo mio fratello quindi ci siamo particolarmente affezionati mentre questo lo ha tenuto per sé e lo usa ancora oggi bravo sono tutti abbastanza vissuti ce li godiamo come è giusto che sia per gli orologi bravi ragazzi adesso ti salutiamo speriamo che il video ti sia piaciuto e che lo possa pubblicare certo complimenti per il canale e per le informazioni che ci dai ciao grazie mille grazie mille ciao 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 belli il tritico finale qua è stato come i fuochi di artificio quando ci sono i tre botti finali boom 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 belli poi vissuti hanno ancora il loro valore aggiunto in più no è aggiunto per forza in più non capisco invece si legge tra le righe questa questo desiderio della quantità lo sei emilton ma non sei emilton sei emilton cacchi della collezione cacchi cioè così proprio uno manuale automatico col bracciale col cinturino questo quella va bene cioè ognuno fa quello che vuole per amore del cielo però fatico come fatico a vedere tutti quei russi messi lì acquistati compulsivamente che poi cosa succede che vanno lì a fare quantità io fatico fatico cioè lo capisco quel collezionismo no a volte uno dice non stiamo parlando di collezionismo ma stiamo parlando di raccolta di orologi poi io a volte rifletto sui miei dico ma c'è una trentina di orologi alcuni è un bel po che non l'indosso ma allora perché perché collezionismo colleziono orologi cioè anche se non l'indosso ritengo lì quindi è giusto parlare di collezionismo anche a livello di anche se non c'è una tematica orizzontale nella collezione ok però fatico sei modelli di cacchi li fatico dieci orologi russi da bancarella li fatico però ripeto ognuno fa quello che vuole poi ti sei salvato con gli ultimi tre sui quali non si può dire niente dai complimenti ragazzi complimenti a tutti e tre e viva la passione per gli orologi che poi ognuno la vive un po come gli pare e piace boh mi sembra di aver detto tutto ragazzi oggi puntata breve con tre video perché due voi non le vedete ma io due l'ho dovuti saltare perché avevano dei problemi di visualizzazione neppure di che non erano fatti bene era proprio un problema tecnico quindi al momento non ne ho altri nel computer caricati e vene beccate tre stavolta la prossima volta giuro ne faccio qualcuno di più ora quei due lì che ho scartato non nemmeno visti perché non funzionavano li devo con un format converter convertire in un formato mp4 più semplice e vedere se li recupero e poi li ripubblichiamo va bene siete d'accordo con me siete d'accordo con me scrivetelo qua sotto che così poi litighiamo vi ringrazio per essere arrivati fino qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube laugh